Musica Finalmente raggiunto l'obiettivo, questo obiettivo di noi ci siamo a Onlus, acquistata la macchina per Nicolás e oggi la consegna. Posso dire una parola, era ora perché questa ci ha fatto veramente tribolare, nonostante tutto il nostro impegno, l'impegno della famiglia, l'impegno di tutti quelli che hanno voluto darci una mano è stata lunga perché purtroppo quando ti prendi troppe brighe è sempre più difficile coinvolgere la gente. Quindi poi la cosa quando cade un po' nel dimenticatoio, riprendere è difficilissimo, poi si accavallano altri eventi, altre situazioni gravi o fragili nel nostro canavese. Comunque grazie a tutti veramente perché nonostante sia stata un po' lunga, con l'ultimo supporto della famiglia stessa siamo riusciti a arrivare a questa benefica donazione che ci fa sempre respirare ma ci dà sempre una soddisfazione grandissima. Ci coinvolge per un evento successivo. E quindi finalmente Nicolás potrà viaggiare su una macchina attrezzata per il trasporto disabili, un sollievo per la famiglia. Sì, questo sì, perché io conoscendo il bimbo che purtroppo oggi non c'è perché ha problemi di salute, però c'è il papà già con il mezzo predisposto, potranno andare alle visite, potranno girare tutta la famiglia con meno peso, meno problemi, perché purtroppo il bimbo è molto pesante come costituzione fisica, quindi trasportarlo era ormai una grande fatica per la famiglia stessa. E adesso aiutiamo Rebecca? Come si dice, finito uno si inizia con l'altro. Noi, tra virgolette, piacerebbe aiutare nessuno nel senso buono perché vuol dire che non ci sono problemi, invece ce ne sono tanti. Tanti si nascondono, tanti fanno finta di non vedere, ma problemi solo nel nostro canavese sono tantissimi, quindi Rebecca ci sarà un altro nostro, come si dice, obiettivo, sperando di portarlo a termine, ma sperando che lei ne venga fuori dai suoi problemi. Adesso la ragazza ormai, fra un po' diventa maggiorenne, a me piacerebbe personalmente che potesse vivere, saltare, gioire con tutte le sue compagne, con tutti i suoi amici, ma godendosi la vita. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.